Bentornati a detto? Fatto! Io sono Valentina ed oggi con noi c'è la nostra nuova amica Giulia Allora Giulia, oggi avevo pensato di creare insieme a te delle bacchette magiche. Vogliamo provarci? Sì! Ok, cominciamo! Abbiamo bisogno di una stella ritagliata come questa e dobbiamo ripassarla sui nostri cartoncini colorati. Dobbiamo cominciare? Sì! Ritagliando le nostre stelle, adesso le dobbiamo piegare per darle una forma tridimensionale Allora, dopo aver dato un effetto tridimensionale alle nostre stelle, adesso mettiamo la bacchetta E adesso dobbiamo attaccare l'altra parte sopra Questa è la nostra bacchetta tridimensionale. Provateci anche voi. È stato semplicissimo, vero Giulia? Sì! Vi aspettiamo alla prossima puntata di Detto Fatto! Ciao ciao! Ciao!